350.000 euro solo per gli interventi urgenti. È la prima stima ufficiale per i danni dell'alluvione che ha colpito la provincia tra domenica e lunedì. Una cifra destinata a salire quando arriveranno le richieste di aziende e cittadini, in particolare quelle del mondo artigianale, agricolo e del vivaismo, settore trainante dell'economia pistoiese. Sarà la protezione civile nazionale a farsi carico dei danni per le somme e urgenze, mentre il presidente della regione toscana ha firmato il decreto che dichiara lo stato di emergenza per le zone maggiormente colpite, quella collinare con oltre 30 frane, la zona di Val di Brana e la piana pistoiese per le esondazioni dei torrenti Bure, Brana e dei loro affluenti. Il comune di Montale, una delle zone più colpite, ha diramato un comunicato nel quale ricorda ai cittadini e alle aziende di documentare quanto più possibile anche con l'ausilio di immagini fotografiche i danni subiti. Dei beni e delle strutture riparate occorre poi conservare la ricevuta fiscale per quantificare con certezza la consistenza del danno. Pistoia e la piana guardano ora con preoccupazione al cielo. Le condizioni meteo non sono promettenti per giovedì 24, un lieve miglioramento si avrà solo a partire da venerdì 25 ottobre.